il senso di colpa e la matrix di la nona elica il senso di colpa come mezzo di controllo coercizione e dominio ma nessuna sorpresa è da sempre che lo utilizzano basti pensare alla chiesa e al concetto di peccato originale perché esiste anche limitazione la brutta copia cinese c'è un copyright a monte e noi dovremo pagare le royalties per una opzione la scelta della religione che non abbiamo esercitato e per un peccato quale che non abbiamo ancora commesso a meno che ovviamente non si voglia sottintendere che il cosiddetto peccato originale sia quello di essere nati allora si comprenderebbe meglio perché tutto l'impianto della religione così come ci viene tramandata nelle catechesi di rito e nella funzione domenicale si basi sulla costrizione e sulla espiazione dobbiamo scusarci per il fatto stesso di essere venuti a consumare le risorse di questa terra che loro sono scarse noi siamo già troppi gesù come maltus o maltus come gesù cambiando l'ordine dei fattori il risultato è identico la sintesi è comunque riuscita perfettamente in questo papato da centro sociale new age e con la sopraffina preparazione del terreno da parte della chiesa perpetuata di generazione in generazione logico che lo stato si sia sempre trovata spianata la strada per continuare la medesima opera di convincimento come il credente è per definizione peccatore il cittadino è per definizione irresponsabile imbroglione evasore truffaldino e chi più ne ha più ne metta avviene dalla notte dei tempi ed è sempre lo stesso gioco più vecchio di nascondino e più vecchio perfino della prostituzione ma ad essa molto molto più simile accade così che in nome del sempreverde valore di bene supremo la catechesi del peccato varia solo nell'oggetto spostandosi da un ambito artatamente spirituale ad uno più marcatamente sociale e se in materia religiosa c'è il sacerdote ad amministrare i sacramenti e dispensare assoluzioni negli affari terreni ci sono gli anticorpi di magistratura forze dell'ordine e burocrazia a fare da clero che preserva il sistema da ogni possibilità di vera evoluzione decidendo in modo totalmente autoreferenziale cosa è bene e cosa è male laddove come facile capire il male cioè il peccato è tutto ciò che non si conforma al sistema cioè a quel contratto sociale che di tale ha solo il nome perché nei fatti viene imposto con la forza e manca della previsione di qualunque possibile l'alternativa sì la regola di tina there is no alternative non c'è alternativa è buona per qualunque stagione e si indossa bene con tutto sia in chiesa che nei palazzi del potere ecco perché abbiamo imposizioni leggi arbitrarie dogmi a profusione costrizioni precetti stringenti raccomandazioni minacce divieti continui ammonimenti e comunque ovunque su tutto e in tutto sempre il senso di colpa matrice e fondamento di quei benedetti contratti religiosi o civili che siano che nessuno ha mai fermato né visto non c'è nessuna armonia in questo sistema non c'è nessuna bellezza ma c'è un lucidissimo disegno quello di tenere sotto scacco nell'ignoranza e nella menzogna l'umanità intera e poi ci chiediamo perché viviamo in una società dei psicopatici ridotti ad automi indottrinati senza alcuno spirito critico la matrix è molto meno olografica è molto più tangibile di quanto si sia portati ad accettare from the card to the grave comincia nella culla e finisce nella tomba quasi per tutti quasi la nona elica